Ciao a tutti, io sono il Dilando Gofilo. Oggi recensione dell'album in sile numero 281, Il Cammino della Vita. La copertina è di Angelo Stano ed è davvero molto buona. Abbiamo questa rappresentazione di geometria impossibile che fa attorcigliare il cervello sempre. E comunque, guardate quanto è carino Dilan da bambino, disegnato veramente benissimo d'Angelo Stano che va a proporre classici canoni della rappresentazione dei bambini. Quindi, diciamo, disegno riuscito alla perfezione. Qui invece abbiamo le diverse età che un personaggio protagonista andrà a ripercorrere forse troppo velocemente all'interno di questa avventura per colpa di una brutta malattia. Apro e chiudo una parentesi, ma la copertina è bianca e la mia si è sporcata oppure Angelo Stano è andato ad attribuire questi tratti azzurrini a questo disegno? Boh, fatemi sapere se la vostra copertina è bianca e se la mia si è sporcata oppure se è giusta così. Mi viene questo dubbio all'improvviso. I test e la sceneggiatura sono di Bilotta, famoso scrittore che conosciamo tutti perché ha creato la serie del Pianeta dei Morti veramente molto apprezzata. Questa storia invece mi ha deluso abbastanza. I disegni invece sono di Freglieri. E di che cosa parla questa avventura? Come vi dicevo, l'albo in questione ricalca la filastroca di Solomon Grandi, che sarebbe una filastroca insegnata ai bambini per imparare i giorni della settimana. Un po' macabra, eccomi filastroca perché qui ci dice che Solomon nacque lunedì, andò a scuola martedì, poi mercoledì si sposò, giovedì si ammalò, una cosa del genere, dopo venerdì sta malissimo, sabato sta crepando e domenica muore male e viene sepolto. Quindi insomma questa è una filastroca un po' macabra per impartire i giorni della settimana, come vi dicevo ai bambini. Ecco, quindi Bilotta prende spunto da questa filastroca e ne va a creare una vera e propria sceneggiatura di Dylan Dog. Come andrà a finire questo esperimento direi davvero male, perché purtroppo abbiamo una sceneggiatura veramente lacunosa, in alcune situazioni subentrano dei personaggi cattivi così all'improvviso, giusto per dare un tono più dinamico alla situazione, ma non serviranno a niente, infatti ci saranno dei misteriosi criminali che si metteranno sulle tracce di questo povero uomo che non ha fatto nulla di male e quindi ci sono delle, diciamo, integrazioni di personaggi in questa avventura che cozzeranno l'una con l'altra. Quindi insomma, secondo me è un pochino da rivedere proprio questo racconto. Dylan si metterà sulle tracce di quest'uomo, integrerà a far parte di quest'avventura perché quest'uomo rapisce una donna perché vuole sposarla, ma Dylan è a un matrimonio di malviventi, non si sa per quale motivo. Insomma, ci sono tante, tante situazioni che non hanno né capo né coda, situazioni che già di per sé quando nascono non hanno senso, figuratevi quando vanno a cercare una conclusione, quindi sempre peggio. Quindi un'avventura che manca un po' di una base solida. Ci sono tante idee proposte in quest'albo che secondo me sono state, diciamo, sviluppate molto molto male. Avremo poi un Dylan che cercherà di aiutare Block nell'indagine, ma un'indagine molto sparpagliata, una sceneggiatura molto sfocata che va a comporre queste 98 pagine in malamenti, diciamo. Ecco, quindi, tutto sommato, anche la lettura risulta abbastanza noiosa. Ho fatto molta fatica a leggere quest'albo, ho interrotto più volte la lettura perché era davvero una storia che non riusciva a trasmettermi la voglia di andare avanti, quindi Bilotta che in questa occasione non mi è piaciuto. Queste sono le mie impressioni personali e i motivi ve li ho elencati. Mentre per quanto riguarda i disegni di Fregheri, diciamo che generalmente vanno molto bene, però in alcune parti vanno ancora meglio. Infatti, nei profili di determinati personaggi, a parte questa bambina, guardate, questa qui è una bambina, nella vignetta dopo sembra la faccia di un'adulta, di una ragazza, insomma, qualche incertezza qua e là nella rappresentazione dei bambini che saranno sempre un elemento tendenzialmente importante in questa avventura e come vi dicevo ci sono dei profili che convincono davvero tantissimo nei personaggi, quindi Fregheri che in alcune vignette riesce a dare, ad offrire il meglio del suo tratto. Mentre per tutto il resto sono disegni nella media, alti e bassi, nella, diciamo, nella gestualità di Fregheri che, come vedete anche qui, riesce a disegnare benissimo questo cadavere. Uh, che bello, sì, sì, cambiamo subito pagina, se no mi viene il volto a stomaco. Invece in altre rimane un pochino più, diciamo, basilario come tratto e non riesce a soddisfarvi. Quindi Fregheri che, alti e bassi nei disegni di Fregheri. La storia viene narrata principalmente di notte e di notte i giochi di luce sono stati presentati molto bene, anche se dal mio punto di vista un filo troppo marcati, quindi ci sono dei tratti di luce fin troppo, come si dice, fin troppo accesa, vedete. Sembra quasi che i personaggi siano stati illuminati da un fago da 600 miliardi di watt, mentre io avrei optato per una, diciamo, luce più soffusa come quella emanata dalla Luna. Quindi alcune situazioni di luce un pochino troppo accentuate. Voto finale che vado ad assegnare a questa avventura purtroppo un 4, perché a me proprio non è piaciuta. Per momento è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile, condividila dove vuoi, falla vedere a chi vuoi, iscriviti al canale YouTube del DilanDogofil, importantissimo, per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di DilanDog, e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo. Grazie. Grazie.